Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come arrivare al Matsui Honkan Ryokan di Kyoto prendete la metropolitana, fermatevi a Karasumaoike e prendete l'uscita 6 che è questa, salite queste scale e andate a destra, quindi non a sinistra ma a destra e seguite questa grande strada in questa strada praticamente andando avanti si potrebbe arrivare anche al mercato di Nishiki che si trova qui veramente a poco più di 5 minuti a piedi, il mercato di Nishiki è un mercato tradizionale, secolare, veramente molto affascinante se venite a Kyoto vi straconsiglio il mercato di Nishiki insieme a tutte le altre cose che trovate sul mio sito www.marcutani.it adesso vedrete che in pochi istanti arriveremo a destinazione qua non è che ci siano tantissimi ristoranti, tantissime cose belle, immancabile Starbucks ovviamente c'è ma non è che ci sia chissà che cosa in questa zona, ovviamente un po' di cosette così per mangiare qualcosa sì, ma il tutto in particolare si sviluppa poi verso quella zona della città, da quella parte in cui arrivate veramente in pochi istanti a piedi quindi adesso io praticamente procedo in questa direzione che vi ho fatto vedere poi magari segnatevi su una mappetta tutte queste varie indicazioni che vi do e che vedrete che vi aiuteranno tantissimo eccomi qua attraverso la strada e andiamo in quella strada che vi ho indicato poco fa quindi faremo tutta questa strada abbastanza tranquilla vedete siamo non in periferia però è una strada secondaria questa un po' più tranquilla appunto rispetto a tutto il casino al marasma centrale ottimi posti appunto per fare questa esperienza del ryokan che non deve essere in una zona incasinata ma deve essere in una zona un po' media intanto vi faccio vedere anche così qualche scorcio tanto per farvi capire che quando sarete in questo ryokan qua vicino sarete catapultati proprio nelle vere tradizioni di Kyoto guardate che bello qua vi faccio vedere proprio per farvi capire dove state andando a prenotare secondo me è importante capire che quando andate a prenotare questo ryokan non state prenotando disneyland con tutto rispetto per disneyland ma voglio dire non state prenotando una cosa finta una cosa eh capite state prenotando veramente un'esperienza che vi si scolpirà nel cuore perché vedete in un attimo arrivati in posti come questo che veramente sono affascinanti ritorniamo sulla stradina per non perdere il filo del discorso e vi porterò verso il vostro ryokan tra poco eh quindi proseguiamo da questa parte poi è importante vedere che veramente si tratta di pochissimi minuti a piedi dalla metropolitana poi è chiaro che se avete voglia di prendervi un taxi magari farvi portare direttamente magari questo video non vi interessa però credo che questo video sia comunque interessante perché vi può far vedere proprio cosa si trova intorno a dove state andando a prenotare e questo lo vedete un po' con tutti i ryokan hotel e varie cose sul mio sito perché cerco di dare appunto un'ampia panoramica di tutto quello che è il Giappone intanto faccio un po' di attenzione perché ho già rischiato diecimila volte di essere investito facendo i video quindi è meglio fare un po' un po' con i furbetti diciamo quindi vedete sempre diritti sempre diritti e quasi ci saremo e non preoccupatevi perché manca veramente 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 poco Chioto è città molto affascinante poi ovviamente qui le zone queste sono comunque di città perché Chioto è una grande metropoli ma a tutti questi ryokan affascinanti che proprio si contrappongono al Giappone moderno e vi fanno vivere esperienze di totalmente altre epoche vedete poi appena arrivata questa strada che si incrocia mancherà veramente poco e pian piano ci saremo eh pian piano eccoci qua questo piccolo incrocio come punto di riferimento e da questo primo incrocetto che prendete come punto di riferimento andate avanti qui ci sarà un altro punto di riferimento per voi che è il Matsuibekan Hanakanzashi ottimo ryokan che ho fatto vedere anche in un altro mio video che trovate sul mio sito andate sempre diritti quindi tenete questa struttura qui alla vostra sinistra veramente stupendo questo ryokan e andate sempre diritti 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 non preoccupatevi che vi porto in un attimo arriverete a quest'altro piccolo incrocio un altro punto di riferimento anche qui piccolo incrocetto e anche a questo piccolo secondo incrocio andate sempre avanti qui c'è il rio Cancoro che vedete in un altro mio video e trovate sul mio sito www.marcotagni.it tenete anche questo ryokan alla vostra sinistra procedete sempre diritti e al prossimo incrocio andremo a destra quindi vi sto facendo vedere proprio passo passo come arrivare al vostro ryokan vi dicevo prima che non è fondamentale scegliere questa strada per arrivare a dove starete a dormire ma questa strada sicuramente è tra le più intuitive più comode e secondo me vi conviene fare questa insomma anche perché arrivare con la metro arrivate lì a quella fermata e vi è tutto più facile di qua vedete andate a destra e in pochi istanti arrivate al Matsui Honkan eccolo qua ottima struttura anche questa come avete visto veramente facile da trovare questo è l'ingresso di qua poi si arriva al mercato di Nishiki guarda che bello veramente splendido che dirvi di più come arrivare in questo fantastico Matsui Honkan venite a visitare il mio sito www.marcotagni.it e al prossimo video dal Giappone ciao ciao